È accaduto alle 8 del mattino al cimitero di Lanciano. Protagonisti dell'episodio di cronaca al vaglio del commissariato di pubblica sicurezza sono due giovani che hanno iniziato ad azzuffarsi in via del mare. La lite sarebbe scaturita da una richiesta di chiarimenti da parte di un 25enne lancianese nei confronti di un 27enne detenuto nel carcere di Villa Stanazzo e con il permesso di lavoro come operaio nella cooperativa di servizi cimiteriali. Tra i due, riferiscono dal commissariato, ci sarebbe stato precedentemente uno scambio di messaggi sui social che poi è degenerato nello scontro fisico. Dopo la scazzottata in via del mare, il 27enne sarebbe fuggito verso il cimitero di Via della Pace mentre il 25enne lo inseguiva in auto. Il primo è riuscito a rifugiarsi nel Camposanto, chiuso a causa dell'epidemia da coronavirus, varcando il cancelletto pedonale, mentre il secondo ha terminato la sua corsa schiantandosi con la Micra Nissan contro la cancellata in ferro. All'arrivo della volante, i due sono stati trovati sporchi di sangue, in volto e con vistose macchie sugli abiti. Dopo le prime medicazioni del personale del 118, entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Renzetti per accertamenti. Il commissariato di Lanciano con la dirigente vicequestore Lucia D'Agostino indagano per ricostruire l'accaduto e accertare i fatti. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi, oltre alla polizia penitenziaria.